Sequestro di beni da un milione e mezzo di euro a Pino Lorè, imprenditore di Caronia, condannato per mafia appartenente al gruppo criminale di Mistretta, comandato dal boss Sebastiano Rampulla, deciduto nel 2010, operante nella zona tirrenica nebroidea della provincia messinese. Il provvedimento emesso al Tribunale di Messina è stato eseguito da personale della DIA con il coordinamento del centro operativo di Catania. Durante le indagini sono stati accertati legami tra l'imprenditore e il gruppo mafioso. Lorè risulta coinvolto e protagonista numerose vicende giudiziarie, quali Mare Nostrum, San Lorenzo, Barbarossa, Charter, Icaro, Montagna, nel 2012 Dolce Vita, nell'ambito della quale è stato colpito da misura di custodia cautelare in carcere insieme ad altre 13 persone, in quanto ritenuto il promotore di un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Ricostruite inoltre analiticamente l'evidente spereguazione economico-finanziaria tra le fonti ufficiali di reddito e le reali disponibilità possedute dall'imprenditore, anche con riferimento ad interposte persone compiacenti. Il decreto di confisca riguarda due imprese operanti nel settore della commercializzazione delle auto e un locale notturno, tutti intestati a suoi prestanome o ai componenti del suo nucleo familiare, 5 unità immobiliari nel comune di Caronia, un rapporto finanziario, 5 mezzi tra autocarri e auto. Lorè è stato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 4 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza disposta alla messa in liquidazione della società Autoservice SRL.